. Uomini e donne, Soleil, Luca nei programmi solo per parlare di me. Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, contro Luca Onestini, invitato nei programmi per parlare principalmente di me. Luca Onestini è probabilmente uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip ad essere stato più apprezzato dal pubblico. Dopo la scelta a Uomini e Donne, come molti sanno, i rapporti tra lui e Soleil Sorge si sono interrotti senza lasciare al bolognese diritto di replica. La ragazza infatti aveva deciso di lasciarlo in diretta televisiva, iniziando così fuori a frequentare Marco Cartasegna, anche lui ex di Uomini e Donne. Sia lei che Luca non si sarebbero più incontrati da allora anche se, sui social e in tv, entrambi, sulla questione hanno continuato a dire la propria. A tirare in causa Luca Onestini questa volta sarebbe stata però proprio Soleil. Sul suo profilo Instagram, in risposta ad una fan, la Sorge si è lasciata scappare un commento poco carino sul suo ex. Soleil, infatti, a chi la invita a difendersi da ciò che Luca dice sui di lei, scrive, il fatto che venga invitato nei programmi per parlare principalmente di me è già una risposta. Una critica dunque diretta al suo ex fidanzato che, secondo lei, a parte questo non avrebbe nulla da dire. Quale sarà la reazione di Luca? Risponderà a questa provocazione o lascerà correre? Luca Onestini a Verissimo, dal canto suo, aveva già espresso la volontà di mettere una pietra sopra la storia con Soleil. Luca Onestini parla dei rapporti con Soleil, dopo il grande fratello Vip Nessun chiarimento. Dentro la casa non è stato facile per Luca affrontare la rottura ma, alla fine, era riuscito a metabolizzare tutto. Il tempo a disposizione prima e il ritorno alla realtà dopo lo avevano fatto arrivare ad una conclusione, e cioè, la sorge aveva già messo in conto di lasciarlo. Consapevole della visibilità che il reality dà, secondo Luca, la sua ex ragazza avrebbe aspettato proprio la sua entrata al grande fratello Vip per avere le luci puntati su di sé. Con lei però il capitolo è stato chiuso definitivamente, tant'è che lo stesso ha dichiarato di non aver più sentito il bisogno di andarla a cercare per un chiarimento una volta fuori. .